Buongiorno a tutti, oggi è il 12 maggio 2021 e sono le ore 9, prima convocazione della prima commissione consigliare. Attestiamo la presenza dei consiglieri Presidente Evola, Vicepresidente Mineo, Consigliere Forello, Consigliere Chinnici, Consigliere Sala, Consigliera Rini, Consigliere Ferrandelli. Considerato che nessuno dei consiglieri è presente in prima convocazione, si rinvia alle ore 10 alla seconda convocazione.